Mi sento molto carico, sono energico, un po' influenzato, ma sono felice. Grazie per la visione! Angelo, il nostro direttore della fotografia, spieghi un po' a questi ragazzi cosa stiamo facendo oggi. Ecco, questa è la parte dove mi blocco completamente. No, I lose my game. When he calls to say she's coming, I know she is there away. So you keep on stumble, and you won't get rid of her. Just don't know how to rescue you, don't know how to save myself. And I've done, I've done, I've done, I've done, the worst that I could I've done. Lying to myself, I claim the end, she won again. Again, again, again. I keep on saying to myself. Pronti? Buona! Azione! Grazie! 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 Grazie!